Mirko Zanni, sollevamento pesi categoria 62 kg, raccontaci l'emozione di questa meravigliosa medaglia di bronzo di ieri. Beh oddio all'inizio non pensavo fosse così emozionante anche perché cioè anzi potevo fare molto meglio ma appena sono salito in quella pedana cioè è cambiato tutto, le gambe hanno cominciato a tremare, anche tutto il resto e niente è andata così comunque bronzo, sono felicissimo, è un'esperienza indimenticabile comunque. Ti sei reso conto di quello che hai combinato, ti hanno chiamato dall'Italia per farti i complimenti? Beh sono ricevuto una marea di messaggi, di chiamate ma tutti mi dicevano ma non sei felice, non sei felice e io dicevo ma non me ne rendo ancora conto quindi sì adesso me ne rendo ancora, me ne rendo un po' conto ma non ancora del tutto. Però tu sei arrivato qui consapevole delle tue possibilità e ti sei impegnato moltissimo anche per raggiungere il peso? Sì beh sicuramente sono stati due mesi intensi anche perché la dieta, gli allenamenti è stato anche un sacrificio per un sedicenne non è facile stare a dieta tutto questo tempo però gli sforzi vengono sempre ripagati, i sacrifici. Hai un modello particolare a cui ti ispiri? No, me stesso. Quali sono i prossimi obiettivi? Guarda non lo so dipende se mi chiamerà la federazione per fare altre gare internazionali comunque a fine anno gli assoluti, gli italiani assoluti sicuramente non mancherò. Questo è il momento più bello della tua carriera agonistica? Beh sicuramente sì, dopo le medaglie in Polonia, gli europei sì. Vengo da una famiglia di sportivi, mio papà comunque da giovane faceva un po' e niente mi ha portato in palestra e ho cominciato a far pesi così dal nulla. A scuola cosa ti dicono i compagni di questa tua attività collaterale allo studio? Niente, mi vedono come un idolo perché nessuno fa questa disciplina, infatti mi vedono come il forzuto, il palestrato, però è bello comunque sapere che gli altri contano anche su di te. Adesso con le gare alle spalle ti godi il villaggio olimpico, insomma divertimento assoluto? Sicuramente sì, me lo godi al massimo adesso. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. Grazie a tutti.